In effetti poteva andare molto peggio Si possono fare un sacco di brutti incontri sui giochi online Eh già, è meglio non dire le proprie informazioni personali Io non ci entro più di sicuro Eh nemmeno io, basta Basta con questo libro, faccio vedere un gioco Davvero? Si, si, allora si chiama Apo E come si gioca? Praticamente io sono un nonino e posso parlare con altre persone, conoscere persone, cambiare, cambiare il lucro Ah Si però si paga Ah e tu com'è che hai fatto? Eh guarda, qui dice che se non ho una carta di credito uso il Paypal Ma non è un problema Ah quindi lo fanno tutti? Si lo fanno tutti Qui dice staff per 80 euro al mese Ah e tu non sei staff? Si io sono staff perché ho pagato 80 euro Ah E come si gioca? Allora guarda, io entro qui Entra in Nutella Poi aspettiamo che si apri Ora aspettiamo il caricamento Ma cos'è un social network? Si è un social network che però al posto, cioè io sono un uomino ecco questo qui Ah e puoi cambiare anche l'uomino? Si si Ecco queste qui sono le stanze Vediamo chi c'è qui dentro Ah quindi è un online? Si si posso parlare con tutte le persone E come si fa a parlare? Allora guarda Oh guarda qua Guarda che ragazza Parliamo? Si aggiungiamola come amico Ecco ha accettato l'amicizia E da qua si può parlare? Si guarda Vediamo se scrive qualcosa Aspetta ciao 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 Ah quel lì da qua Si dico qua e parlo, si Vediamo cosa dice, non ne so Come ti chiami? Oh no Kevin Kevin Posso dare anche rispetto qui E cos'è che succede? Rispetto e gli arrivano dei soldini in più Elena piaceva te Si chiama Elena quindi? Ah e da qua puoi anche scoprire dove abita tipo? Si Ah e puoi anche far la webcam? Eh si a quanto pare Posso anche denunciarla se fa qualcosa Ah Dove abiti? Io abito No 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 Voleva sapere dove abito, gli ho scritto tutto, così. Eh ma, fai prima in contatto, no? Sì. Vediamo cosa scrive, è un po' lento a scrivere. Ah ma quindi questa è chat privata? Sì, quindi nessuno può perderti. E se vuoi chattare con tutti? Beh, io lo voglio conoscerti meglio, va bene. Ok, a che ora e dove? Ma non è un pochettino pericoloso? Ma no, fa niente. Ah ma aspetta, ma quindi tu quando ti registri, anche se tu sei un maschio, ti puoi attraversare da donno? Eh sì. Femina. A quanto pare sembra una femmina. Ah, aspetta, ci vediamo. Grazie, l'undici di sera. Va bene. Va bene. Come si fa a chattare? Tu scherci una persona e chatti. Ah. Scherci i chat e io posso... Ciao. No, ma ti state studiando. Sì, sì. Vabbè, state giocando a qualche gioco? No, no, no. Fatemi vedere. E che cosa sarebbe? È una ricerca sulla scoperta dell'America. Avete scritto molto, eh? E l'abbiamo appena iniziata. Vabbè, ci vediamo dopo. Ok. Ciao. 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 Allora, vediamo. Oh, una telefonata da Deo. Ciao. Ciao. Dimmi. Vediamo cosa facciamo. Intanto facciamo un giro perché scrive lenta. Ma non sarà un po' pericoloso? Ma no, ma tanto ci vai te, così la conosci. Questa sera non posso facciamo l'essere. Elementi. Di pomeriggio. Oltre. Io. Altra. Altra. Va bene. Eh? 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 Ciao. Salve. Ma che ci fai qua? Stai scoppiando un'amica? Io sono un agente di polizia postale. C'è una cosa che non do? Eh sì, perché abbiamo appena scoperto una rete di pedofili che dà appuntamento alle proprie vittime e proprie vittime. In effetti io l'ho incontrata su un gioco a mano. Su hub, vero? Esatto. Eh sì, lo sapete. Bene, vieni con me che andiamo in ufficio e mi spieghi bene cosa è successo. Non prendere in giro i tuoi genitori. Non trascurare lo studio giocando. Prima i compiti e poi il zoo. Giada se siete sicuri. Chatta con chi conosci. Non comunicare mai con altri personali con uno sconosciuto. Non uscire con persone sconosciute. Comunica ai tuoi genitori i nomi delle persone con cui esci. Parla con mamma e papà o qualche lungo su un altro sito internet. E questo per tutto... Preparare loggio a tutti i nostri spieghi. Non ci sono tutti i nostri spieghi. Grazie a tutti Grazie a tutti